Siamo nel liceo scientifico con i ragazzi, specialmente quelli che hanno interesse di scrittura, che hanno anche partecipato a un corso di scrittura creativa, racconterò la mia esperienza di scrittore, di un ingegnere che improvvisamente si ritrova dentro l'istinto di scrivere storie che spingevano ad uscire, che pretendevano essere raccontate. Dalla mia esperienza proverò poi con loro a costruire una piccola storia nel breve lasso di tempo che avremo, partendo da un incipit che ho creato io, per stimolare la loro fantasia e nell'augurio magari di ingenerare in qualcuno questa passione della scrittura che tante soddisfazioni sta dando al mio animo, perché scrivere è un fatto interiore della persona, poi il successo se lo si ottiene o meno è molto meno importante. Grazie a tutti.